Vedete un po' voi cosa mi tocca fare, struccata e in pigiama. Ero su Facebook, così senza la voglia e l'idea di fare niente di importante e quello che sembrava un normale momento di cazzeggio si è trasformato in un'intossicata bella e buona. Non è una novità, direbbe chi mi conosce, ma andiamo per gradi, adesso vi spiego perché c'è un motivo. Mi capita questo post, ora potete tranquillamente leggere quello che c'è scritto lì sopra, inutile dire che io sono perfettamente d'accordo, però adesso vi contestualizzo. Il post mirava a mettere a confronto e sottolineare la grande differenza e disparità che c'è tra i contratti di Kathleen Clark e Victoria Wimanyaman. Per chi fosse un pochino meno pratico, Kathleen Clark, la ragazza che vedete qui in foto, è stata la prima scelta assoluta nel WNBA Draft di quest'anno, mentre Victor Wimanyaman è stata la prima scelta assoluta dell'NBA Draft dell'anno scorso. E lo vedete qui giù. Sono praticamente due fenomeni generazionali. Ora, chi segue il basket collegiale, ma anche quello professionistico statunitense, sia maschile che femminile, sa di cosa sto parlando. Kathleen Clark ha praticamente battuto tutti i record possibili e immaginabili della Division I collegiale. È la giocatrice che ha segnato più punti tra la Division I sia maschile che femminile della NCAA, mentre invece Victor Wimanyaman sta dimostrando, anche adesso, nel suo primo anno da professionista in NBA, di essere un alieno, come l'ha definito anche lo stesso Lebron, perché fa delle cose che sono veramente assurde. Cioè, lui riesce a tirare come Kevin Durant e difendere come Yannis Antetokounmpo, quindi un qualcosa che praticamente non si era mai visto, soprattutto per l'altezza che ha, che è ben 2,24 metri, quindi, insomma, non è un anetto. Tralasciando questo piccolo dettaglio, il post, che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza il fatto che hanno firmato praticamente un contratto uguale, nel senso che sono due contratti da quattro anni, ma che Kathleen Clark in questi quattro anni prenderà all'incirca 340.000 dollari, invece Victor Wimanyama 55 milioni di dollari, da cifra spropositata. Ora, direte voi, il gender pay gap, purtroppo, è una cosa che c'è, esiste, non è così semplice da cambiare, e vi dico anche che avete ragione. Quello che mi ha fatto intossicare, onestamente, è stato a leggere i commenti, e adesso vi faccio vedere. Erano veramente tantissimi, tantissimi, però quelli che proprio più mi hanno fatto salire il sangue e il cervello sono stati due, e adesso ve li faccio leggere. Chiaramente per privacy ho coperto i nomi, quindi daremo dei nomi. Genoveffo, ok? Genoveffo dice, Paragone senza senso, lo sport è lo stesso, e ambe due sono degli attratti eccellenti. Neffi qui. Le franchigie hanno delle entrate differenti che permettono retribuzioni differenti. Vabbè, il problema è il secondo. Quanti introiti porta la Clark? Quanti Wimanyama? Scritto anche male, perché quella N è sbagliata. Ecco, questa è non economia di dottorato, ma buonsenso, cosa che nella battaglia Wook evidentemente manca. Aiuto. Allora, innanzitutto, Genoveffo 2, perché Genoveffo era questo di sopra, Genoveffo 2, questo di sotto. Genoveffo 2 evidentemente non conosce bene, o comunque non segue la palla a canestro e non è particolarmente aggiornato. Ora, quello di sopra l'abbiamo soprannominato Genoveffo, questo di sotto lo soprannomineremo Pinco Pallino. Ecco, tralasciando che Pinco Pallino evidentemente non è particolarmente aggiornato sulla palla a canestro professionistica statunitense, perché altrimenti saprebbe che l'Indiana Fever, ovvero sia il team che ha draftato Kathleen Clark con la prima scelta assoluta di quest'anno, hanno registrato un aumento spropositato per quanto riguarda la vendita dei loro biglietti, tant'è che addirittura alcune squadre contro cui dovranno giocare per questa stagione hanno dovuto spostare le loro partite. In che senso? Per esempio, le Las Vegas Aces, siccome continuavano a vendere biglietti e i posti dell'arena erano finiti, perché questa gente voleva andarsi a vedere Kathleen Clark, hanno dovuto spostare la partita dall'arena più piccola della città a quella più grande. Quindi, per farvi capire quanti introiti porta effettivamente Kathleen Clark. Il reale problema non è neanche tanto questo, è quanto il fatto che manca proprio il punto centrale della questione. Ovvero sia, le giocatrici WNBA non vogliono ricevere gli stessi soldi, cioè le stesse cifre matematiche fino all'ultimo centesimo dei giocatori uomini. Questo assolutamente no. Il punto è che le giocatrici WNBA vogliono ricevere le stesse percentuali, che è una cosa diversa. Vi spiego meglio. Nella WNBA le percentuali dei ricavi sono condivise per i giocatori, quindi rientra anche le vendise delle maglie e i contratti televisivi. Chiaramente, i giocatori perché ricevono dei compensi anche per quanto riguarda quelle entrate? Perché questo è specificato nelle clausole del contratto di lavoro collettivo, cioè il CBA. Nella WNBA, invece, non è assolutamente così. Sì, mi spiego meglio. Il CBA, della NBA, quindi il contratto di lavoro collettivo, divide le entrate in modo equo tra giocatori e proprietari. Nella WNBA, invece, secondo il contratto collettivo, le giocatrici beneficiano della condivisione delle entrate, sì, ma ricevono una divisione 50-50 soltanto delle entrate incrementali, non delle entrate totali. E l'associazione delle giocatrici della WNBA riceve soltanto, mi sembra, il 50% delle entrate che derivano dalla vendita di magliette delle specifiche giocatrici. E la cosa che più fa rabbia, in particolare, alle giocatrici, ma anche a chi, ovviamente, segue ed è a conoscenza di questi dati, le giocatrici non possono richiedere cambiamenti almeno fino al 2025, perché il contratto di lavoro collettivo della loro lega sarà in vigore fino a quell'anno. E, a meno che non ci siano cambiamenti epocali proprio a livello specifico della lega, non si potrà fare niente, anche se io credo, onestamente, neanche dopo. Quindi, come disse Kelsey Plum, ormai un anno, se non un anno e mezzo fa, addirittura, in un podcast di cui era stata ospite, dove appunto parlò proprio del gender pay gap tra la NBA e la WNBA, è tutto un grande malinteso. Cioè, loro non vogliono gli stessi soldi, le stesse cifre precise dei giocatori maschi, vogliono semplicemente le stesse percentuali delle entrate totali, non soltanto incrementali. E, se aveva ragione Kobe Bryant, quando diceva che bisognava lasciare il gioco migliore di come lo si era trovato, allora direi che forse è il caso che qualche cambiamento si inizi a fare, perché così non andiamo bene.